12 febbraio 1997. La squadra ha passato gli ultimi anni a lavorare a delle contromisure e a metodi per cacciare i cacciatori. Se riuscissimo a catturare vivo uno di quei bastardi, il mondo cambierebbe per sempre. È strano che non sia mai stato recuperato nulla da un contatto con un predator. Non è mai stato trovato un corpo, un arto o perfino un dito. Comunque non è poi così incredibile. Il predator è fatto per la furtività. Non lo vediamo perché impiega una tecnologia avanzata di rifrazione di luce che lo rende invisibile. Ma lui può vederci perfettamente con la scansione a infrarossi. Il nostro calore corporeo ci tradisce. Per fortuna, gli infrarossi non sono troppo avanzati. Dach, Schaeffer, è riuscito a sfuggire alla vista del predator, coprendosi di fango freddo. Questo ha portato il team a sviluppare una tuta che maschera la traccia termica di chi la indossa. Stiamo ancora lavorando a modi per contrastare il sistema di occultamento, ma gli ultimi tentativi hanno dato risultati incoraggianti.